Il foglio di via dal comune di Morbegno e l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria non sono bastate un magrebino di 23 anni accusato di furti, rapine e aggressioni in pieno centro sia di giorno che di notte per lui da parte dei carabinieri della stazione di Morbegno sono quindi scattate le manette H.E. queste le sue iniziali è gravemente iniziato per i reati di furto, rapine e lesioni personali oltre a resistenza pubblico ufficiale e reati in materia di stupefacenti l'arresto è frutto del lavoro dei carabinieri della stazione di Morbegno le cui risultanze investigative hanno permesso di acquisire significativi elementi per ritenere il giovane autore di due episodi di rapina eseguiti con grande sfrontatezza confidando anche nel fatto che i malcapitati impauriti si sarebbero astenuti dal denunciarlo in particolare gli sono andati contestati una rapina consumata ai danni di un giovane in un bar del Morbeniese all'interno del quale un ragazzo è stato malmenato e derubato dei propri beni per un valore complessivo di 700 euro un minore è invece stato vittima di una rapina in pieno giorno al ragazzino, aggredito a calci e pugni, sono state rubate anche le scarpe da ginnastica che indossava al momento dell'aggressione qui il bottino complessivo sarebbe di 250 euro e nella circostanza il fatto che fossimo in pieno giorno non ha evidentemente scoraggiato il giovane magrebino ora fermato dai carabinieri